Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube, video di oggi dedicato all'unboxing dell'endoroid di Sai, dalla serie Ikaru no Go. Sì, di Fujiwara no Sai, se avete visto il video dell'altra volta, abbiamo già unboxato il protagonista Ikaru e questa volta andiamo con lui. Sì, e tra l'altro io vi ricordo ragazzi, se li volete acquistare entrambi o anche solo uno, link in descrizione www.japanshoppingservice.it. Ecco, allora, questa volta tocca a Sai, ovvero per chi non conoscesse la serie, questo spirito di questo antico giocatore di Go che appunto ritorna sempre sotto forma di spirito grazie a questo vecchio Goban che trova in soffitta e da lì inizia poi, vuole comunque continuare a giocare a Go e lo fa tramite Ikaru e quindi un po' tra virgolette alla Yu-Gi-Oh! dove c'è appunto lo spirito del faraone che in quel caso si impossessa di Yu-Gi e gioca al posto suo, mentre qui invece lui non si impossessa di Ikaru ma gli sta accanto e comunque però gioca al posto suo perché gli dice che mosse fare, ecco, in un primo momento. Intanto andiamo ad ammuxare la scatola, ok? Vediamo un po' se come scatola è fattiva. Ah, come quella di Yu-Gi. Tranquillissima. Sono migliorati l'apertura delle scatole. Sì, perché appunto quelle di Giorgio abbiamo... È un po' un casino per dirli. Sì, è faticato. È bello. Perché comunque, come dicevamo anche nell'altro video, certe scatole le fanno anche proprio bene a livello di dettagli e quant'altro, quindi ci dispiace anche rovinarle. Molto bello anche questo. Quanta roba. Aspettate che qua è cascato un braccio perché è tutto pieno di plastica. Ah sì. Ecco, allora, io direi di andare a levare... A cavolo! Qui è anche sotto la veste. Beh, così intanto ne approfitto per farvi vedere... Vediamo, aspettate. Sì, effettivamente questo è... Allora, intanto mostro le parti qua. Abbiamo lui che piange e lui più esaltato e allora qua abbiamo due braccia e allora la mano col ventaglio chiuso e col ventaglio aperto, quindi abbastanza... Sì, sì, tranquillo come parti del corpo. E qui vediamo che probabilmente c'è da... Ok. Aspetta. Sì, sì. Cavolo, io non ho mai visto così tanta plastica in un Endoroid perché l'hanno messa letteralmente in... Imballati al millimetro. Sì, in ogni... in ogni parte scomponibile. Prima con l'ausilio di un paio di forbici perché se no non... Sì, però aspetta che c'è anche qua. Ah, è vero! Cavolo! Aspettate. Ok, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua, andiamo a ricomporre, sai? A liberarlo da tutta, insomma, la parte della scatola. Eccolo qua, fantastico. No, lui è proprio bello perché ha anche i nabiti tradizionali del suo periodo e vedete... Tanta roba. Proprio proprio bello. Poi si snoda tantissimo. Sì, è vero. Così, sì... Proprio bello. Ah, forse ecco... Le braccia forse sono il punto dolente di Sai. Sì, ma più che altro perché normalmente, sai, Icaru magari ha un vestito normale, mentre lui è più facile che magari gli saltino un pochino. Ah, vedete, qua ci sono anche gli orecchini. Bello comunque. Proprio bello, sì. Quindi ragazzi, adesso lo mettiamo in una posa, magari insieme ad Icaru e vi facciamo vedere. Allora, l'abbiamo messo un attimo in posa, adesso vi faremo vedere meglio con Icaru. Però prima volevamo fare un appunto che lui avrebbe, come ogni nendoroide, la sua base. Il problema è che a metterglielo con i capelli viene un po'... Insomma... Un casino, via. Eh, sì, ma la cosa positiva, e secondo me sta meglio così... Aspettate... Aspetta che l'avevi messo prima. Sì, mi sembra che questo sia... Aspetta, ah no, ecco, l'avevi bilanciato così? Sì, penso che sia l'unico nendoroide che sta in piedi senza piedistallo. Ed è perfetto così, perché, allora, nella versione in cui volevamo mettere appunto Icaru, anche lui è senza piedistallo, perché ha il cuscino e quindi viene perfetta la scena, perché, appunto, c'è lui col ventaglio che gli dice che mossa fare e quindi perfetto così. Cioè, tanta roba veramente, ragazzi. Quindi, io vi ricordo che, se volete acquistare questo e altri nendoroide, link in descrizione www.jafanshoppingservice.it. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate o condividete. Se volete, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao.